un cordiale saluto a tutti voi cari telespettatori di Fano TV come sempre sintonizzati sul 17 del digitale terrestre per la rassegna stampa come sempre diamo un'occhiata al mattino ai quotidiani il resto del Carlino il messaggero il Corriere Adriatico tutti e tre quotidiani che hanno inserti anche della provincia di Pesaro e Urbino li vedremo tra poco adesso il calendario oggi è San Cirillo di Gerusalemme è stato vesco il sole è sorto alle 6 e un quarto e tramonterà alle 18 e 18 il tempo alle 7 e 28 la fotografia scattata dalla nostra webcam che è anche un osservatorio meteorologico che si trova sopra la nostra sede in via Borsellino a Fano e questa dicevo la fotografia la temperatura alle 7 e 30 è di 9 gradi centigradi per oggi il tempo allora dovremmo aver superato la fase di maltempo dei giorni scorsi infatti oggi avremo soltanto una residua nuvolosità in mattinata con prevalenza di cielo sereno invece per il resto della giornata le temperature sono in lieve diminuzione le massime in diminuzione le minime per domani giovedì 19 marzo avremo temperature stazionarie o in lieve aumento e giornata praticamente soleggiata ovunque venerdì giornata in cui il sole verrà oscurato lo vedremo tra poco dai quotidiani verrà oscurato parzialmente almeno in Italia dalla luna quindi l'eclissi di sole che si potranno vedere con gli occhialini lo ricordiamo cielo sereno poco nuvoloso speriamo che questo spettacolo appunto possa essere garantito dal bel tempo senza troppe nuvole a disturbare anche perché sarà di primo mattino poi lo vedremo temperatura in aumento probabile peggioramento per il fine settimana ma con molta variabilità fra gli scenari calcolati dai modelli numerici quindi ancora tutto da vedere bisognerà ancora attendere qualche ora per avere previsioni un po' più certe un po' più sicure un po' più dettagliate questa mattina cominciamo la rassegna stampa con il messaggero la pagina di Fano in apertura ex chiese le ex chiese ospiteranno la fiera antiquaria riqualificare la mostra con delle sezioni riservate ai pezzi più pregiati pezzi più pregiati che potrebbero finire per esempio con mobili di maggior valore i mobili di maggior valore al Sant'Arcangelo e a San Leonardo dove saranno appunto organizzate delle sezioni espositive con mobili pregiati più in alto del vecchio imprenditore consigliere politico derubato fate come me denunciate il consigliere comunale ha subito un furto di gasolio ai danni della sua impresa di trasporti e Cherosene invece è il liquido inquinante sversato dai gnoti nel mese di febbraio sversamento del quale vi abbiamo informato nel corso dei nostri telegiornali Albani il canale Albani è stato inquinato chiuse le indagini nei guai sono finiti i titolari di un'impresa in zona Bellocchi la guardia costiera ha denunciato i titolari di un'impresa nella zona industriale di Fano uno sversamento accidentale la sostanza finita in acqua è assimilabile alla Cherosene un fluidificante però per attività industriali l'episodio è avvenuto il 9 marzo scorso il caso Rincicotti-Orciani sempre dalla pagina di Fano del Messaggero finisce in commissione di garanzia oggi convocata alle 18.30 nella sala del Consiglio Comunale di Fano andiamo sulle altre pagine del Messaggero a Pesaro Pesaro studi vertice del Rettore con Ricci e poi con gli studenti il doppio faccia a faccia previsto per domani intanto ieri la riunione del Senato Accademico è stata interlocutoria ancora al signor no sempre da Pesaro ai signori no o ai signor no rispondiamo con il fare Matteo Ricci sindaco di Pesaro al vetriolo contro i vertici di APA e Confcommercio che hanno criticato l'amministrazione pesarese sull'ipotesi notte rosa il sindaco dice credo non ci sia mai stata un'amministrazione come questa che sta investendo sul turismo tutto questo è stato scatenato dagli albergatori in particolare che insomma hanno criticato un po' il sindaco di Pesaro a Fano invece tutti zitti e a Fano si invece si aspetta che questa notte rosa possa essere realizzata considerando però appunto i costi la posizione di Oliva non è condivisa dagli altri albergatori e riferendosi a Varotti voleva candidarsi con Marche 20 e 20 dice il sindaco mentre da Rimini la Confcommercio romagnola attacca i vertici locali pesaresi forse dovrebbero sentire di più i loro iscritti e dicono il modello Pesaro è vecchio di 20 anni ex AMGA 14 richieste di condanna un'ora e mezza di requisitoria del PM Bascucci che ipotizza la soluzione di montagna e mette sotto accusa il geometra a tutto fare 3 anni e 6 mesi per i trasportatori 3 anni alle imprese proprietarie dell'area e 2 anni per i rappresentanti delle cave la politica PD Ceriscioli a Marcolini candidati la proposta per farlo entrare in giunta ma da consigliere la risposta non è necessario così a Macerata sale la tensione a Pesaro la minoranza non trova il candidato di riferimento ad Ancone il prof dopo l'addio di Sturani vorrebbe la Maiolini il cielo dà spettacolo e c'è l'eclissi di sole le Marche sono pronte ecco guardate quello che ci aspetterà nella giornata di venerdì è stato rappresentato in grafica con tutte quelle che sono le fasi di questa eclissi che a Pesaro avrà inizio in provincia alle 9.26 ad Ancone un minuto dopo alle 9.27 il massimo di questa eclissi sarà intorno alle 10.35 per finire intorno alle 11.45 vedete? Ecco questa sarà la punta credo massima qui più o meno dove avremo uno spicchietto ecco tutto sommato ci sarà uno spicchio ecco questo qua poi lo vedremo anche sul resto del Carlino andiamo invece adesso sul Corriere Adriatico ripartiamo da Pesaro asili nido investimenti di 48.000 euro Ricci e Ceccarelli tariffe più proporzionate per la fascia media sistema in vigore da settembre la Giunta ha annunciato l'assunzione di 4 nuove maestre che sostituiranno chi andrà in pensione gli studenti non mollano la presa ieri manifestazioni davanti al Senato accademico replica delle noci mentre in fondo la cronaca ragazze in fuga da Urbino due subito ritrovate le quattro minorenni si sono separate ricerche anche nella notte la pagina di Fano per quanto riguarda le polveri a bellocchi l'ARPA dice le polveri a bellocchi sono simili a quelle di Fano il dirigente Benignia valla i dati dell'acqua in quel territorio devono essere cercate sostanze specifiche a centropagina la sanatoria ricorso al tar del comitato l'ha annunciato il portavoce mail l'interpretazione del comune contraddetta dal Consiglio di Stato l'azienda ha ampliato un capannone parliamo della Plof proprio il classe di bellocchi l'azienda ha ampliato un capannone prima di ottenere la variante Seri non vuole abbatterlo mentre anche qui si parla del cherosene sversato nel canale Albani scattano adesso le denunce sotto la politica a coto del 5 Stelle al Partito Democratico Minardi non faccia la campagna a spese dei fanesi la candidata invita il Presidente del Consiglio a dimettersi l'esortazione è quella di rottamare le brutte pratiche Carloni e Aguzzi attendono invece la scelta di spacca promossa invece la Fano dei Cesarini che fino all'anno scorso si è svolta nel quartiere di Fano adesso è stata promossa dicevo allo studio il trasferimento da Sant'Orso al centro con Bighe e Maxi Cena la formula collaudata garantisce buoni margini di successo sull'evento maggiore invece quella Fano dei Cesari che tutti abbiamo conosciuto in questi anni ci sono ancora delle incertezze andiamo avanti sempre sul Corriere Adriatico Summit sul disastro costiero ora i fatti incontro degli operatori con Giorgio Solazzi chiesti interventi immediati di protezione delle spiagge a Marotta si puntano sul finanziamento di un progetto che preveda di alzare tutte le scogliere da sommerse a emerse sfida pericolosa sulla Flaminia gare di sterzate giovani al volante si spingono e spingono le auto a grande velocità ci sono stati episodi segnalati da più testimoni gli incontri sabato sera lungo la strada di Sestata sulla vecchia Flaminia sulla vecchia Flaminia che appunto viene utilizzata per fare queste corse notturne ma i carabinieri lo sanno le forze dell'ordine lo sanno cogliamo l'occasione anche per ricordare che queste corse notturne vanno di moda purtroppo anche nella via circonvalazione a Lucrezia quindi sarebbe il caso forse visto che sanno i giorni in cui si riuniscono i giorni in cui lo fanno sarebbe il caso di porvi rimedio prima che qualcuno si faccia male a Senigallia chiudiamo il Corriere Adriatico con questi elettrodomestici che sono stati danneggiati dai cali di corrente a Senigallia stanchi dei continui black out alcuni cittadini si sono rivolti all'associazione consumatori per richiedere un risarcimento poi l'iniziativa non nuova ma che quando uno è esasperato forse ci sta qui i politici non possono più entrare titolare di un bar pizzeria di Senigallia esasperato dalle tasse e anche dai furti dice dormo nel locale per colpa dei ladri si chiama Mauro Mastrosanti e dice le forze dell'ordine fanno quello che possono mancano le leggi per fermare le scorribande con quello che ho pagato invece per i rifiuti è meglio che gli amministratori si tengano alla larga apriamo il resto del Carlino la pagina di Fano Fano Teneo potrebbe venire in aiuto a Pesaro Studi Palazzo San Michele non ha problemi di spazi e si è già parlato di ampliare i corsi di laurea pronti 180 mila euro è il rinnovo dell'impegno per sostenere l'istituzione biotecnologie numero chiuso ancora dalla pagina di Fano del Carlino sotterrani del palazzo sporchi ed inagibili salta la visita del FAI accuse al comune giornata di primavera botta e risposta tra la referente e l'assessore Marcheggiani rilancia il preventivo per pulire era di 10 mila euro perché il FAI non ci dà lui il contributo poi arrivano gli studenti Erasmus l'assessore del Bianco li saluta parlando in inglese e fa un figurone poi dalla pagina di Pesaro scusate di Pergola e Valle del Cesano passaggio a livello a Marotta caso chiuso via email modifiche un sogno delusi migliaia di cittadini poi sotto gratte e vinci prima mille euro poi altri 10 mila insomma una ragazza fanese cliente di un bar e il bar va tranquilla di via di Viale Piceno a Fano una 47enne cliente nel pomeriggio di ieri ha detto Mirko Falcioni ha grattato prima mille euro e poi 10 mila insomma quando uno deve vincere per forza ritrovate due minorenni scomparse una terza ha telefonato i genitori manca all'appello la quarta adolescente fuggita da questa casa protetta che si chiama La Villetta di Urbino poi chi ha seguito il nostro telegiornale ieri sera avrà visto e ascoltato le parole di Ilaria Cucchi dice continuerò a chiedere giustizia per mio fratello ha partecipato ad un convegno di due giorni sul tema lo stato irresponsabile giuristi e filosofi a confronto e ancora siamo in chiusura Andrea Nava nessuna chiarezza sulla morte neanche l'autopsia svela la causa ha svolto l'esame medico ma non ha ancora portato a nulla saranno necessari 60 giorni per avere una risposta precisa anche dagli esami tossicologici mentre scontro sul ponte ancora grave il 75enne di Babucce ricostruite le fasi dell'incidente di chiusa di Ginestretto chiudiamo con l'eclissi l'astro oscurato il sole oscurato il massimo alle 10.36 durerà fino alle 11.47 ecco l'eclissi il sole sarà a barchetta venerdì tutti con il naso all'insù e sappiate che se non potete o avete impegno eccetera la prossima sarà il 21 giugno del 2020 ma sarà molto più piccola quindi per vederne una di nuovo totale in Italia dovremo sperare di sopravvivere fino al 3 settembre del 2081 ma a Pesaro sarà totale solo nel 2187 auguri a tutti arrivederci grazie a tutti grazie a tutti